Facciamo adesso il teatro immaginario solo con i personaggi che ci vengono dati dal gioco, quindi l'obiettivo è finirlo, poi se non ci riusciamo prendendo tutte le stelline, pazienza, però l'obiettivo è finirlo, quindi avanti. Quindi, ospiti d'onore speciale, c'è Emil, scusate c'è Emil lì, ma ovviamente dovete sbloccarla per averla, non prenderò nessuno, la cosa che a me interessa è nel caso di supporto prendere un personaggio di qualcuno che possa aiutarmi, soprattutto col boss finale. Per dirvi, io ho 20, quindi non ho bisogno di prendere un 20, ma nel caso se avete degli amici con 20, 20 continua ad essere in questa modalità, secondo me, davvero tanto tanto utile. Però per dirvi, non ho nuvillette, prendo il nuvillette di pistolero, ok? Boom. Perfetto, così non mi devo prendere per forza un personaggio rotto come nuvillette e cerco di prendere anche dei personaggi che possiamo avere un po' tutti. Quindi, uno Sinchu, una Laila, una Rosaria, possiamo avere... non prendo Yelan, che magari non l'abbiamo, possiamo avere chi altro? Una Charlotte, posso avere un Mika, prendiamo un Freemine dalla disperazione, prendiamo una Saccarosia, prendiamo una Linette, cioè sto prendendo veramente una Mona, può darsi che Mona l'abbiate? Sto veramente prendendo i personaggi scarsi, eh? Cioè, apposta per non farmi dire, ah, Zerga però... Eeeh... E qua, altri scarsi, sinceramente, li vedo un po' poco. Tartaglia, che è vecchio, prendiamo un personaggio vecchio, dai. Mona e Tartaglia sono molto vecchi. E come ultimo, boh, vabbè, a sto punto allora mi prendo un onore speciale e a sto punto mi prendo magari... Potrei prendere sia Shaling... Potrei prendere sia Shaling che Naida, in verità. Potrei prendere sia Shaling che Naida, ma se prendo Naida è un casino perché per giocarla non la gioco come vorrei. Eeeh... Mi prendo una Shaling, dai. E' lì, tra gli ospiti d'onore. Let's go, appunto. Quindi, andiamo avanti. Eeeh... Quindi, cast di supporto, ho preso Novilet. Lo potete fare tutti. Basta che abbiate un amico con Novilet. Se non è Novilet, magari prendete un amico che c'ha... Non lo so, un altro personaggio forte. Questa è una cosa che può essere tranquillamente fatta. Compagno casuale, devo cominciare a costruirmi per dopo. Devo cominciare a costruirmi per dopo vuol dire che devo buttare dentro un botto di Krio. Perché il primo boss va giù quel Krio. Mi prendo un altro personaggio. O... Sì, mi prendo un altro personaggio. Eeeh... Prenderò... Eh... Sarebbe da prendere Freminé per levarselo subito. Ma in verità, Laila, in questo momento mi piace di più. Quindi... Mmm... Posso farmi... Adesso... O... Loro... Il colosso delle rovine, il drago delle rovine, guardiano della terra. Potrebbe essere interessante da fare inizialmente. Innesca le azioni di Turbinia. Sì, ok. Allora, io cerco di liberarmi sin da subito... Eeeh... Degli Anemo. Quindi in questo caso è di Shao e Farusan. Quindi prendo Shao Farusan. Mi gioco con Shao Farusan a questo punto. Magari... Laila... E Diona. Così da fare il doppio Crio. Quindi da avere in modo tale l'aumento del tasso critico. Quindi, let's go. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Ho tipo 200 scudi così. Lo so che è una... È una combo un po' del cavolo, ma... Io non so se prendo il triangolino qui dove sono io, ma... Mi sa di no. Però vabbè. Sono proprio fuori dal triangolino. Però vabbè, dovrei riuscire comunque a farla. Le Turbinio le abbiamo innescate. Let's go. Diamo di nuovo lei. Per il secondo da fare. Lei la tiriamo così. Lei vai con la Burst. Lui vai con la Burst. Ma in verità abbiamo abbastanza spaccato. Cioè... Non è stata abbastanza... Non è stata troppo problematica per essere iniziale. L'unica è il triangolo che proprio faccio skip a giocarlo. E non l'ho preso mai una volta. Ok. Sono un po' indietro con i danni. Spero di farcela. Ma dovrei. Dovrei. 29 secondi. Ce l'abbiamo fatta. E la prima l'abbiamo fatta. Perfetto. Sacroso Xinchu. In verità... Xinchu qua mi serve tanto. Xinchu qua mi serve tanto. Ciao Marnin. Ciao Misa. Xinchu qua mi serve tanto perché mi applica bene i danni. Dono mirabile. Assolutamente. Ho bisogno di dono mirabile. Allora l'attacco aumenta dopo la guarigione. Personaggi attivo in fece danni Crio. Aumenta il danno Crio. Danno Crio. Mi serve per dopo. Contro i samurai. Contro... I bishop contro le macchine. Allora il geosauro è più statico. Preferisco andare sul geosauro. Perché è un po' più statico uno dei due. Quindi è un bersaglio grosso. Posso menarlo un po' più... Tra virgolette easy. E... Allora tenendo in considerazione che mi devo tenere da parte del Crio. Posso giocarmi a questo giro Rosaria Laila. Così ho Diona Spear e c'ho ancora Rosaria dopo. Ok. Ok. Allora in teoria i danni qua li dovremmo avere anche abbastanza grossi. Se lui non trolla. Se lui non mi trolla però. Mamma mia che troll incredibile. Che troll incredibile. Eh vabbè. Eh vabbè. Cerchiamo di portarla a caso uguale raga. Eh qua è stata trollata fortissimo sta cosa. Spero di farcela nel tempo previsto. Ma che mi sono usato un po' tutto. No la modalità... Scusate. La modalità fotografia. La più grande cagata che abbiano mai fatto in sto gioco. Ok. Vediamo un po' se... Non basta la ricarica? No non è vero. Ero convinto bastasse la ricarica. Eh vabbè. Ero convinto bastasse la ricarica. Eh vabbò. Eh amarezza. Vabbè non mi prendo la stella. Potrei farcela con la stella in verità. Ah in verità la rifaccio. Perché la posso fare con la stella questa? No ma io l'ho messa in un tasto sbagliato io. L'ho messa in un tasto sbagliato io. Infatti la sto pagando sta cosa. Ma perché sono pirla io? Ok non se ne vanno. Uno ori... No se ne sono andati tutti e due veramente? Ma veramente? No ma che che rotura. Se ne sono andati via tutti e due veramente? Faccio meno rotation ma li stronco prima. Devo fare meno rotation qua. Facciamo quindi. Uno, due. Uno, due. Ok. Così almeno facciamo meno giri. Uno tant'è ce l'ha fatta eh. Ok. Fastidio sta cosa. E dammi due particelle per l'amor di Dio. E qua ci vuole un po'. Ok. Vediamo un po' se così riusciamo. Forse ci siamo. Ok. Oh. Vabbè. E niente. Mi ha spostato più infinito. Eh non ce la faccio di poco. Non ce la faccio di poco perché mi hanno spostato. Ok. Porco Giuda. Mi hanno spostato e all'inizio i due iniziali mi hanno rovinato. Andiamo così. Ok. 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 Vediamo un po' in questa maniera se per caso. Ok. Va bene. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Qua dovremmo essere messi benino. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Era solo da fare bene la parte iniziale. Ok. Avanti. Mona o Linette. Linette. Mi serve. Mi serve un anemo. Che non ho più. Ok. Dono mirabile. O selezione compagno. Non mi serve un compagno ora. Non mi serve un altro compagno. Fastidio. Vabbè. Prendiamo mica. Vediamo di fare. Non ce la faccio a fare probabilmente il bonus di questo. Ma l'importante è portarlo in fondo. Per portarlo in fondo mi serve. Rosaria. Aspetta. Non lo so però se mi serve Rosaria. Fermi. Uno. Due. Proviamo così. In verità mica mi gioco. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok. Non me li fa più i caricati. Madonna che fastidio. Madonna che fastidio che non me li fa più. Che fastidio incredibile. Eh vabbè qua. Ok. Madonna quanto sono indietro coi danni. Porco Giuda. Mamma mia quanto sono indietro coi danni. Ok. Non molto indietro. Molto molto indietro. Qua bisogna rifarla. Qua bisogna rifarla. Bisogna rifarla e bisogna farla bene all'inizio. Bisogna rifarla e farla bene all'inizio. Vediamo un po'. L'Inet qua però non la levo. Non mi serve a nulla. Sinceramente non mi serve a un cacchio. Quindi facciamo così. Vediamo così come viene. Ok. 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 Va bene. Ok. Mi è andata di lusso. Mi è andata. Mamma mia. Mi è andata stra di lusso. Va. Stavolta. Oh. Avevo la bersora. Ok. Ok. Boom. L'ho fatta anche col bonus. Uh uh uh. L'ho fatta anche col bonus. Attenzione. Attenzione. Vai charlottina. Mmm. 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 Così come fare il lato 5. Eh. Guarda. Sto provando adesso. Segui così almeno. Eh. Vedi come lo sto facendo soltanto con i pg. Presi dal trial. Non sto usando praticamente nulla di mio. Eh. Pesante. L'attacco aumenta dopo aver ricevuto guarigione. Dagni aumentati. La. Ok. La vitalità. Quando i pg. Se aumentano o diminuiscono. Eh. Questa è grossa. Personaggio. Mi serve. Lui. Così me lo levo. L'ho preso. Buonanotte. Ora. Qua. Serve. 20. Ma io non ce l'ho. E quindi. Sono un po' fregato. Sono fregato qui. Allora. Qua come facciamo? È un bel casino qua. Qua è un bel casino. Perché. Mona. Iaka. Novilette. Mi viene da pensare. Rosa. Mi viene da pensare. Rosaria. Eh. Qua è un bordello. Provo il permafreeze. È l'unica. È l'unica. Ragazzi. Provo veramente il permafreeze. È l'unica. Provo veramente il permafreeze. Però. Boh. Anche qua. I danni non ci sono. Proprio. I danni proprio non ce li ho. Provo a mettere il cosino. Che lo attira. Ma. E' qua. Sconfiggerne 30. La vedo veramente dura. La vedo veramente dura. Raga. E' là. Spero che ne arrivi di più. I pupazzetti. Diciamo che provo a salvarmi con quelli. Ok. La vedo malissimo. Sì, sì. Domani la guardiamo. Sì, sì. Ok. Altro pupazzetto. Vediamo se riusciamo a tenere. Madonna. Usare un personaggio che non è mio. La senti la differenza in una maniera incredibile. Ma senti tantissimo. Si sente veramente tantissimo la differenza. Raga. Che è a livello proprio di danni. Ci sono proprio altri danni. Proprio altri. Ok. Mettiamo l'ai. Proviamo. Non me lo fanno mettere. Non mi cambia a volte i personaggi. Non li faccio 30 qua. Qua non li faccio. Senza 20 qua non lo faccio. Con 20 avrei potuto. Dico la verità. Con 20 ce l'avrei fatta. Con 20 ce l'avremmo potuto fare. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. L'importante è finirla. L'importante è finirla. Però non faccio la stellina. Chi se ne frega. Ho arrivato nuvi. GG. Il luvi non è mio. Nuvi let non è mio. È di un amico. Quindi. Se avete un amico. Chi ha nuvi let. Direi che è il momento. Creazione da... Ma l'ho preso 20 in verità. Ma sapete che forse non l'ho preso 20? Ho... Ho un attimino di dubbio. Ho un attimino di dubbio. E quando ti viene quel momento e dici... Ma... Io... Le cose le ho fatte. Eh... Diona ce l'ho ancora. Bene. L'importante è avere Diona. E... Questi... Ho i lupi. Lupi. Preferisco i lupi. Le alternative sono... Mi viene in mente Mora DPS. Sto pensando seriamente a Mora DPS. I'm not joking. Potrebbe essere in verità la soluzione. Ehm... Fatemi sognare. No, non è C2 Mora. Non è C2. Però i dot... Per... Oddio. Non ha preso neanche una foto. Non ci credo. Non ha preso neanche una foto. Lol. Fatemi sdagnare. No. Per esempio Charlotte DPS a questo punto. Penso che sia più Charlotte DPS a questo punto qua. Sinceramente. Lol. È più Charlotte DPS a questo punto. Ok. Vabbè va già meglio rispetto a prima eh. Va già meglio rispetto a prima. Dai. Ok. Eh devo per forza fare questo. Ok. Ok. Ora ammazzare questi sarà dura va. Proviamoci. Lol. Ok. Uno. Due. Vai Charlotte DPS. Mamma mia. Charlotte DPS è fantastica. Lol. The Dream. Dei cheese. Il cheese team. Va. Non ce la faccio di poco però dai. Però era di poco dai. Era di poco. Di poco insomma. Insomma. No no. Devo cambiare qua. Devo cambiare di nuovo. E che non voglio usare nuvi. E che non voglio usare nuvi. Non voglio usare nuvi. Allora. Potrei sacrificarmi furina. Potrei sacrificarmi furina. Per dopo. No. Non mi sacrifico furina. Fermi. No no. Ho l'idea. Ho trovato. Uno. Due. Di uno. Due. Tre. E. Uno. Due. Tre. E quattro. Così ce la faccio. Così ce la faccio. Così secondo me ce la faccio. Vediamo eh. È una cosa assurda. Però grande. Grande Charlotte TPS. Charlotte TPS. Grandissima. Grande Charlotte. Grande Charlotte. Ok. Uno. Due. Esatto. Perfetto. Ok. Burst. Ma è importantissimo. È importante il cazzo. Ok. Forse che ho preso tutte e due. Grande. Lol. Lo faccio veramente con Charlotte TPS. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Con doppio healer. Lol. Lol. Non so se ce la faccio. Vediamo. Ok. Dai eh. Non molla. Eh. Non so se riesco a danni. Non so se riesco a coi danni. Dai. Lol. Ah. Mika in quel team non serve a nulla. Ma dai. Non l'avrei mai detto Triton. Non l'avrei mai detto. Certo che non serve a nulla. Se non. In verità non è vero che non serve a nulla. Perché mi dà il critico. Perché è il doppio. È il secondo Crio. Però ce l'abbiamo fatta. No. 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 Serve. Altro che. Serve. Serve. Mi dà il secondo crit. E mi dà l'attack speed. Ce l'ho fatta. Anche con lei. Senza problemi. Ho bisogno di compagni. Anemo casuale. Idro. Vabbè. Tartaglia. Meglio che un calcio nei coglioni. Ok. Allora. Nilu. Barbara. Yao Yao con lei. Sì. Allora. Adesso. Hm. Hm. È che mi sono usato Xinchu. Però vabbè. Era nei piani. Più o meno. Sono cazzimo. È ora un po' difficile. Però vabbè. Ci proviamo lo stesso. Ci proviamo uguale. Devo tenermi. Mi devo tenere. Vabbè. È inutile che ve lo spiego. L'avete capito da soli. Cosa devo fare. Ok. Eh. Non le ho più vero. Eh. Infatti non le avevo più. Eh vabbè. Eh. Capita. She tapens. Ok. Eh. Lo immaginavo che saremmo andati a finire così. Però vabbè. Qualcosa gli abbiamo comunque fatto. Ok. Ok. Va bene. Dai non è andata male. Dai non è andata male. Non è andata male. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Anche con i team strani. Va bene uguale. Va bene uguale. Ok. Dono. Bisogno di doni. Come non ci possono domani adesso. Sì. Un altro dono. Sufficio danni idro. Sufficio tre volte non danno. Ma la si idro idro. Eeeh. Ok. Eh. Va bene. Ho abbastanza idro. Dovrei avere abbastanza. Abbastanza idro. Qua è il momento di tartaglia showtime. Non penso. Non pensavo di averla mai detta. Sta frase nella mia vita. Ma credo che sia arrivato il momento di tartaglia showtime. Sì. Dobbiamo fare una scelta ragazzi. Dobbiamo sacrificare o furina o no viletto. Dobbiamo fare una scelta. Dobbiamo sacrificare o furina o no viletto. Sacrifichiamo furina. Purtroppo. La. La V. È andata così. È andata così ragazzi. Dobbiamo scegliere uno dei due. Ok. Ok. Facciamoli venire in qua. Devono venire vicini. Ok. Sono vicini. Ok. Ok. Dovremmo. Eh però sono troppo congelati adesso. Va bene. Ok. Vediamo un po' se così riusciamo. Dovremmo. Dovremmo riuscirci più o meno. Più che altro c'ho lei che è. C'ho furina che è matta. C'ho furina che è letteralmente matta. Con quei danni. Con quei danni sugli animaletti. Ok. Eh bisognavo usare uno dei due. Va bene. Madonna. C'ho la gente non bildata. Porca Eva. Doni. 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 Serve a niente. Tanto non serviva niente nessuno dei due. Quindi. ok qua vediamo vediamo di fare con nuvi nuvi dovrebbe dovrebbe farcela quindi una due tre quattro dovrebbe essere un team decente vola per favore grazie ok metti un po' d'acqua borsa vai a posto dai ho presi solo un paio vabbè e niente e non abbiamo molta regen qua non dirmi che voli ora vabbè anche se volassi i problemi non ce ne sarebbero perché comunque dovrei colpirli comunque la coda dovrei riuscire a colpirli comunque quella dovrei riuscire a raggiungerlo uguale usate vabbè vieni giù di nuovo allora il nuvi lettera di un mio amico non era il mio lo ribadisco sacros non era buildata tartaglia non era buildato fremine non era buildato l'inette non era buildata ci se la fa con tutti i personaggi presi in prestito e tu mi dirai vabbè ma nuvi lettera di un tuo amico è vero ma avete questa possibilità potete prendere un personaggio forte di un vostro amico quindi è solo una questione di pratica rifare riprendi riparti riprova potevate anche tenervi ciao per la fine cioè nel senso io me lo levo perché non mi piace ho fatto una una l'ho fatta con Charlotte di PS quindi insomma si può fare secondo me anche così Gagnu per dirti non l'ho messa ho cercato di togliere tutti dei personaggi cioè l'ho fatto uno con Mika che non serviva niente ho cercato di mettere tutti i personaggi questa volta che potessero avere tutti e volutamente scarsi quindi non vestiti eccetera eccetera non all'ottanta c'erano personaggi al settanta quindi Lesgoski potevamo mettere Kokomi potevamo mettere veramente la Sagra la Sagra dell'Idro Aiato cioè Tartaglia regà non faceva niente quindi insomma l'Abisso continua a rimanere una modalità difficile lo è anche se non si hanno i personaggi può essere molto difficile ma ci sono i metodi comunque ho missato due stelline cioè ci sono i modi a Grazie a tutti.